bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti e oggi di notizie ce ne sono davvero tantissime innanzitutto alcuni streamer stanno ricevendo dei pacchi misteriosi direttamente da happy games ve ne faccio vedere qualcuno che vi parla della storyline o di quello che c'è in ballo poi vedremo invece anzi ascolteremo degli audio dedicati a ciò che potrebbe anzi che succederà in fortnite perché è qualcosa di davvero molto interessante insomma tanti leaks tante news prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi che si tratta proprio di questo mystery box inviato ad alcuni streamer parliamo di streamer veramente grossi in italia non so se qualcuno l'abbia ricevuto che appunto tratta di qualcosa fortnite in john ccc seed me on the plan for the season quindi questo streamer dice mi è stato inviato un pacco e appunto al suo interno ci sono delle dei riferimenti ovviamente allo zero point vi voglio leggere quello che c'è scritto nella nella lettera we need to stop them from the escaping the loop with zero point expose now is our chance to enlist the help of the others vuol dire che dobbiamo in questa story lane e in qualche modo fermare il loop dello zero point come ovviamente avete capito il loop è il momento in cui l'agente john si nel trailer si è gettato nello zero point la mappa si è capovolta e siamo arrivati ovviamente a questa mappa che ha degli elementi della mappa precedente quindi tutto collegato ovviamente non sappiamo come si potrà fermare lo scopriremo di certo andando avanti con questa stagione che vi ricordo finirà a marzo e ovviamente avremmo delle patch che ci delucideranno un pochettino di più appena io saprò qualcosa lo saprete anche voi e andiamo avanti ragazzi perché nel box scusatemi c'erano dentro un sacco di cose oltre a quella lettera una tazza da tè degli occhiali da sole necklace e credo che sia una collana peanut butter caps quindi boh roba anche da mangiare tipo sherry blossom tea space bananas e poi c'è l'ant farm quindi c'erano proprio delle cose dedicate ad ant man come abbiamo visto nella season precedente delle caramelle delle pitture per la faccia ermetti insomma era davvero un sacco pieno di roba che figata lo voglio anch'io epic games mandamelo anche a me porca miseria andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché invece questa è una cosa davvero super interessante ieri è uscita la skin di kratos di god of war ma ve ne parlo nuovamente tra poco perché c'è un bel collegamento sembrerebbe che non sia la prima e ultima skin in arrivo o meglio dedicata ad altri videogiochi in realtà ne abbiamo già avute diverse ma diciamo non era mai successa una cosa del genere senza neanche un preavviso guardate un pochettino ci sono delle skin c'è un elenco di giocatori facenti parte di altri videogames che dovrebbero essere trasformati in skin ad esempio arthur morgan di the red dead detention dante di devil my cry leon di resident evil aloe di horizon zero dawn claude di final fantasy scorpion di mortal kombat zelda joker di batman che l'abbiamo già visto sans di undertale snake di metal gear solid crash bandicoot trevor di gta yoshi di mario bros master chief di halo che vi ho già fatto vedere ieri clank di ratchet and clank michael di gta kratos che è uscito e naruto una roba davvero che arriva come uno schiaffo diciamo perché wow questi sono personaggi importantissimi la storia dei videogiochi quindi staremo a vedere ovviamente che cosa hanno intenzione di fare andiamo a parlare del prossimo argomento di oggi questa è la skin intanto in alta definizione di halo ieri ve l'avevo fatta vedere ma non era così bella oggi ve la mostro colorata molto meglio questo invece di volevo parlare kratos skin del kratos subito velocissimi il trailer ragazzi che sicuramente avrete visto anche voi come vedete c'è il sergente frittella lì chiamatele un po come vi pare che si aggira in una foresta e ad un certo punto dal nulla un lupo mannaro porcaccia la miseria il lupo mannaro è un qualcosa di super interessante nel trailer arriva la skin di kratos che come vedete lo spaventa schiaccia il lupo mannaro e lui scappa via la figata è che arriva una conferma molto interessante da un leakers da un dataminer che dice wolves will be added to the game later this season andando avanti in questa stagione verranno aggiunti i lupi mannari porca miseria porca non ho idea del perché non ho idea del come mai ma ho idea che qualcosa di super interessante sta per arrivare insieme ai lupi mannari e lo scopriamo intanto vi faccio vedere delle immagini bellissime di concept che stanno facendo per la controparte femminile di mida anche ieri vi avevo anticipato qualcosa ma questo è quello che mi interessava sono stati trovati nei file di gioco determinati file audio che stanno ad indicare un mini evento che potrebbe accadere nel piano segreto che c'è nell'edificio dentro io la chiamo la giungla non mi ricordo ancora il nome comunque quella location in alto recintata con tutte le foreste vi voglio far sentire quello di cui vi sto parlando ragazzi guardate un pochettino anzi ascoltate che roba se parte guardate un pochettino anzi ascoltate che è stato questo per l'edificio di Questi rumori sono davvero super interessanti perché abbiamo capito che nel piano sotterraneo di questo edificio è presente un'immagine che vi avevo già mostrato nel giorno in cui c'è stata la patch, ovvero sia quel robot, anzi forse ve ne ho parlato anche in un video news di questi giorni, quella specie di robot che ha un po' fatto storcere il naso a tutta la community. Abbiamo avuto delle brutte esperienze con i bruti nella season 9, probabilmente farà parte di questo aggiornamento della storyline, quindi lupi mannari che potrebbero venire contrastati ad esempio da questo robot che sarà possibile utilizzare con il personaggio. È ancora tutto un po' frammentario, confusionario, ma le cose vengono fatte. Io vi ringrazio ragazzi perché per oggi le news finiscono qua, ma vi ricordo una cosa importante, il pollicione in suraga. Schiacciate il like per questo video, mi raccomando se volete lasciate un commento, importantissimo perché mi aiutate a mandarlo nei consigliati. Grazie per averlo guardato, noi ci vediamo alle 8 in live su Twitch. Ciao! Ciao!